Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, restano rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e B1 Variante, tra Firenzuola e Badia, in carneggiato opposto tra B1 Variante e Badia. Ultima pagina per il traffico ferroviario, ricordiamo lo sciopero in corso fino alle 21 di questa sera, interessa il personale del gruppo FS italiane Italo e Trenord, da tutti i treni interessati ai provvedimenti di circolazione sui nostri canali social. Sciopero anche domani 6 maggio, questa volta per il trasporto pubblico locale, la tramvia a Firenze sarà attiva dalle 6.30 alle 9.30, dalle 17 alle 20, i mezzi di a Torino e Toscane dalle 4.15 alle 8.14 e dalle 12.30 alle 14.29. Buona verità in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città meroportana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!